Ciao! Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potown Store, sito numero uno per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online, sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail, inoltre con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? E ciao grullai e benvenuti in questo nuovo video, io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con un nuovo deck di Vivid Voltage. E' passato un po' di tempo dall'ultimo deck, ma non perché io non ne avessi voglia, ma perché non c'era niente di interessante, o comunque il 99% dei mazzi li abbiamo fatti. Purtroppo l'espansione prossima è in ritardo, quindi io non so, cioè sto sbattendo la testa in muro per trovare qualcosa da fare. Ma oggi abbiamo trovato il deck degli uccelli, anfezzante! Cosa fa questo piccione viaggiatore? Più che piccione gli ha un tacchino. Anzi, l'è un fagiano. Prima di andarvi a far vedere la lista, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo siete, ma soprattutto seguitemi su Instagram, perché comunque ogni tanto qualcosa di ignorante esce sempre fuori. E andiamo a vedere cosa fa Erfagiano. Traffica discendente, 3 energie e 90 danni, Pokémon di fase 2 veramente pesante, fa 90 danni e possiamo scegliere se rimischiare a ciascun giocatore tutte le carte assegnate ai Pokémon attivi in gioco. Quindi, se il nostro avversario ha un Pokémon con, non lo so, Amuleto, Igland e 3 energie, se gli faccio 90 lui rimette quelle 4 carte tutte nel mazzo. Di conseguenza, al turno dopo è impossibile che riassegni 3 energie. Noi, l'unica energia per poter attaccare con questo aggeggio gli è la tripla, quindi cosa dobbiamo fare, come funziona questo mazzo? A parte essere difficile da usare, bisogna cercare di portarci con veramente pochissime carte nel mazzo, in modo tale da fare sempre 90. Avere sempre l'energia tripla nel mazzo, quindi comunque con poche carte di cui la tripla, poco altro insomma. Quindi una volta abbiamo solamente la tripla, noi attacchiamo per ogni turno per velocizzare il pesco del Sanpei. Noi abbiamo PG8, quindi se riusciamo a settare, non so, 3 PG8 in panca o un paio di anfesante, siamo a posto. Con PG8 andiamo a vedere le prime 2 carte del nostro mazzo, sceglierne una e l'altra la andiamo a mettere in fondo. Quindi con 3 PG8 sono 3 carte che peschiamo, più si può fare un Ameri, si può fare avicoltore, pescare 3, si può fare ricerca accademica. Quindi comunque dobbiamo cercare quanto prima di settare i nostri pokemon in gioco, come altro pokemon, perché comunque anfesante che fa, fa 90 ma de fa ca. Quindi ci abbiamo messo anche Altaria che si va a proteggere dagli attacchi dei V e dei GX. Quindi comunque anche lì 60 danni le andiamo a fare, anche solo per temporeggiare un attacco di anfesante dopo. Poi abbiamo l'energia cattura per andarci a prendere un base, quindi l'energia cattura io in genere cerco di darla sull'Altaria. Quindi metto energia su Altaria, prendo un base, magari prendo un PDAV se non ce l'ho, ma preferirei prendere i PG, perché devo settare il prima possibile i PG8. Mew, l'unico matchup di Mew, è contro Picarom. E poi vabbè, 4 caramelle per i PDAV qua, che lanciano dei testicoli sui becco. 4 comunicazioni, 2 Waroma, 4 Quick, Camilla e Catlina, per andarci a riprendere, non lo so, magari un'antaricerca, un boss, un qualsiasi cosa. Tavola da inversione, utile perché comunque, visto che tutti i nostri Pokémon ritirano a uno, una volta che io l'ho assegnata a un Piccione, a un Altaria, eccetera. Posso fare ritirata, vedere se ci esce una Tripla, eccetera. Il mazzo, beh, non vi posso dire che il mazzo è semplice, perché non lo è per niente. La tattica qual è? Cercare di andare a colpire i Pokémon carichi dell'avversario, quindi una volta che io vado a disturbare l'avversario, scartando, non è scartando, facendogli rimischiare le energie nel mazzo, l'altro attaccante sarebbe l'Altaria. Magari in alcuni match-up dove l'avversario non ha dei base che possono contrastare l'abilità di Altaria, a quel punto ce la giochiamo solo di lui. Fa cacare, ragazzi, sto mazzo fa cacare, però era da fa' e quindi io, Riccabrozzi, ve lo porto. Allora, detto questo, per il ritorno di questi video, lasciate un bel mi piace, superiamo, boh, 150, così, nel giro di un'ora, così a caso. Via, ragazzi, andiamo a vedere che fa sto tacchino. Vivo avversario di oggi, siamo contro Marmark. Vediamo un po' chi è il nostro amico Marma. Allora, eh, ho visto roba folletto, non so assolutamente che cosa ci possa essere di folletto informato, comunque iniziamo noi. E... va bene, diciamo, abbiamo una mano discreta. Abbiamo praticamente un bordello di energie, ma va bene o sì. Allora, lui gioca Porygon, io farei così. Energia cattura su Swablu, si mette un... Un Pidav. E possiamo dare questo su Pigi e finiamo così, finiamo così. Cioè, insomma, se lui adesso non mette niente, lo donchiamo come Don Carlos. Vediamo se... se passa si vola. Si vola come uno... uno Swablu. L'ha fatto! Vabbè, insomma, questa partita è incredibile. Questa, ragazzi, signori, è la... la... boh... La prepotenza di... di tutto. Guarda, attacco di tranquilli perché voglio stare tranquillo. Si fa così perché... Fa 60, questo si ritira, si mette tranquillamente. Raffica di letame. 60 danni. Donch incredibile. Si vola. Secondo avversario di oggi, signori. Siamo contro Gabri Ponte. Mamma mia. Allora, eh... testa. Vediamo un po'. Abbiamo vinto il lancio della moneta e voglio iniziare a io. È il nostro turno e ci esce solamente un Pidava a questo giro, eh. Ok. 5T, ragazzi, è un attacco interessante. Ci permette di prendere due Pokémon che hanno resistenza a lotta. Quindi, ci possiamo prendere i che ci pare, ma non abbiamo l'energia per attaccare. Lui potrebbe giocare o Mario, però col mantello della tenacia non l'ho mai visto, o ADP. Spada Indomita contro ADP è forte. Riuscire a fare l'attacco su ADP e levargli l'energia prima che faccia il GX. Ah, un pesante. Eccolo qua. Ce lo possiamo già evolvere grazie alla caramellina rara. Eccolo lì. Poi, si può fare. Farei finito. Farei finito, non faccio niente. Tanto lui non può segnare due energie. Preferisco che inizi a benchare roba e caricarla. Eccolo qua. Prejuable. Arceus, attenzione. Più che altro mi dovrebbe avere un altro Pokémon qua davanti. Energia Aurora. Energy Switch. Butta via un martello. Vabbè, giustamente se gioco le triple non gli ha senso. E' intrepida. Eccolo là. Assegna energia, quindi un'altra energia. Ce l'ha in mano. Facciamo così. Energia. Meria a secco. Non posso fare ricerca accademica con due bossi in mano. E' da spararsi nelle gonadi. Ora, così ci piace. Contro ADP. L'unico che può reggere gli Eswa Blue. E Michigar brebbe mettere un piccione. Quindi farei così. Leviamo la cornacchia di sole. Ci mettiamo il piccione delle sementi. Eccolo qua. E si lascia così. Dopo si può mettere Altaria. E vedere un attimo il cash fuori. Rafica discendente. 90 danni. E voglio assolutamente levare le carte assegnate. Mi dispiace un po' per la tavola. Ma lo dovevo fa'. Lui adesso non può fare il GX. Però può fare energia Zacian. Ritirare con uno switch. E farci i 230 sul fagiano. Qualcosa, insomma, se li va a fa'. L'importante è che non abbia fatto il GX adesso. C'è andata di lusso. Eccola, 230. Rip fagiano. E che gli si dedia. Ha fatto il suo. Ci ha preservato un GX mostruoso. Ora tutto sta nel... Nel mazzo dell'avversario. Se non gioca delle risposte ad Altaria. Allora è auto win. Però c'è chi gioca a Duraludon. C'è chi gioca a Aegislash. C'è chi gioca a Stamfisk. Quindi dipende un po' qual è la sua risposta. Se non gioca niente... Boh. 230. Ce li siamo presi. Ha fatto il suo. Noi mettiamo il Celestino Swablu. Perfetto. Guarda. Ero nel dubbio di mettere ovviamente Altaria. Che ce n'è uno solo. Però anche questo PG8 è cremoso come un cremino. Allora. Questo si evolve. Evolviamo anche il PG8. Darci qualcosa per pescare. Perfetto. Guarda. Godo e sbrodolo. Vai ricerca accademica. Si vola. Mettiamo l'altro piccione. Questo si mette. Ci prendiamo un altro PG. Tanto finché lui non fa il GX va bene così. Non penso lo vado a fare prossimamente. Anche perché se lui avesse fatto il GX non mi conviene benciare roba perché se mi fa boss su piccioni sono già 6 premi con la roba lì. Quindi meglio evitare. Però visto che non l'ha fatto. Noi ci proviamo. Lui dà l'aurora su Zacian. Quindi sono contento così. Piattino. Se ha due piatti. È perché non ha più fame. Spada Indomita. Intrepida Melle Bestie. Noi possiamo attualmente attaccare. Si fa. Energia cattura. Mettiamo un Antropidav. Posta aerea. Caramella perfetta. Perfetta. Si fa. Caramella di qui. Questo si evolve. Si poteva dare la tripla e ci usciva una mossa incredibile. Però va bene. C'era uscita tutta la combo. Si poteva fare avvicoltore. Tripla. Però va bene. Altre tre energie. Quindi si vola. Cioè lui vola. Occhialini metallici. È ok. Boss order. Sull'an pesante sicuro. Giustamente. Che fai? Lo evolvi? Me lo lasci lì un altro turno. E invece no. Signor Gabri Ponte. E me lo potrei lasciare. Allora. Andiamo avanti col. Col P.G. P.G.8. Si dopo si fa avvicoltore. Si pesca tre. E si fa. Ano normale. Ci riprendiamo. P.D.A.V. E. Anfusant. Alla franchise. Poi si fa. Post aerea. Ci esce. Giustamente. Per legge. P.G.8. Poi. Si rifà. Airmail. E stavolta mi prendo la tavola da surf. Si vola. Questo. Si mette su altaria. Si switcha omele bestie. Si pesca tre. Non troviamo niente. Ma si fa. Sessanta. Danni. Ora. A colpi di sessanta. Prima o poi. Morirà. Morirà. Diciamo che Anfusant. È l'unica mia condizione. Di evitare il deck out. Perché se tutte le volte. Faccio 90. Levo l'energia all'avversario. La mia ritorna nel mazzo. È impossibile. Che io faccia deck out. Comunque ogni turno. Andrò a pescare. Una tripla. Ora. Il problema sta. Nel fatto che lui. È un po' storto. Perché non ho capito il fatto. Non ho capito perché mi abbia attaccato. Lui ha. Sprecato un attacco. Quindi ora non può attaccare. Ma posso attaccare io. Questa si mette. Boh. Airmail. Si prende energia cattura. Così a caso. Nel caso dovesse fare dei martelli strambi. Questa la mettiamo qui. Immersione rapida. 60 damage. Lui ha tirato via. 3 switch. Ha tirato via. 3 switch. Continua a mettere Aurora su Zacian. Quindi non vuole fare il GX. Di Arceus. Martell. Guarda che esce test. Lo sapevo. Ho fatto una sculata. A beccare quella cattura. Si vola. 2, 4, 7. Se continuo a intrepidare. A pescare. Noi possiamo puntare al Dekaut. Non mi sembra male come idea. Altra energia su Zacian. Che non capisco. Però. Energia cattura. Non catturiamo. Non catturiamo niente. Farei. Posta del cuore. E troviamo Tranquil. Già ma c'ho la caramella a mano. Potevo evolverlo. Va bene. Evolviamola così. Tanto c'è 20 carte. Si ritrova easy. Comunicazione. Ma è bellezza. Anche perché se glielo mettevo subito. Sicuro adesso mi faceva boss. Altri 60. Ce li portiamo tutti in range di attacco. Insomma. Altra energia su Zacian. Io non so come farà ad attaccare Altaria. Lui al massimo può farci 3 premi. Perché non ha fatto il GX di Arceus. Signor Gabri Ponte. Boss order. Di nuovo su Tranquil. Oh non c'è verso attaccare. Non c'è verso provare. A fargli la mossa. Comunque nel senso. Ci ha detto culo che gli abbiamo fatto. Il. L'anfesante. Sull'ADP. Lo abbiamo. Sega. Gli abbiamo segato le gambe. Attacco diretto. Senza pescare di piccioni. Tanto non mi serve niente. Voglio solamente portarmi a casa questa partita. Switch. Altri 2.30 che fanno 0. ADP. Energia acciaio. Energy switch. Energy switch. Ma non può switchare l'aurora. Quindi dopo dovrebbe avere l'energia acqua. Martello. Ti prego fai croce. C'ho gli occhiali delle croci. God. Mary. Io se lui riesce a fare il GX. Non saprei come rispondere. Perché dovrebbe avere i KO facili. Bada in mano di merda. Secondo me adesso è intrepida. E lo fa. Lui ha finito gli switch mi sa. Dovrebbe avere finito gli switch. Io vado a secco con la vecchia. Perché con le vecchie e si va a secco. Attacco e basta. Ehm. Attacco e basta. C'ho il boss. Che mi potrebbe dare due premi dopo. Se fa il GX. Insomma. Lo fa. Ha tirato via due boss. Ha tirato via due boss. Io provo a far così. Si leva questo. Con il palloncino. E si leva. Due premi. E si prendano. Comune azione. E ha un pesante. Pazzesco. Ci mette l'ADP con due. Ci mette Oranguru. Questo Oranguru è Greve in Chianti. Che lui ha quattro switch buttati. Un palloncino. Spero non abbia altri palloncini. Energy switch. Switch a quanto vuoi. Ora ci fa. Dopo ci fa boss. Saggezza del primario. Noi ci sono tre caramelle buttate in eccesso. Non si può neanche fare un pesante. Non ha senso. Dobbiamo solamente sculare. Che lui non abbia boss. In mano. Uno l'ha buttato. Due l'ha buttati. O anche che non abbia gli energy switch. Per ritirare a mano Oranguru. Due turni di Servan per buttarci giù. Cioè per. Ritirare Oranguru. Non siamo messi benissimo. Hai riuscito a fare il GX. Però. Dobbiamo. Reggere. Volendo sarebbe stato forte. In questo mazzo. Avere dei retini. Proprio contro questo match up. Però. Si potrebbe vedere un po'. Che cosa levare. Perché è un mazzo. Pregno di roba. Allora. Lui ci fa il cuore. Perché c'hai il boss in mano. Se c'hai il boss in mano. Vediamo un po'. Proviamolo. È l'unica mossa. Che posso fare adesso. Nel dubbio. 60. Te li tiro. Così se dovessi fare KO. Si può puntare a fare il KO. Su Arceus. E farci gli altri tre premi. Noi volendo abbiamo Camilla e Catlina. Per andarci a riprendere un altro boss. Due energy switch li ha tirati. Forse a un terzo. Spero di no. Vediamo se siamo riusciti a stallarlo. Ok. Non aveva switch. Non aveva più l'energia. Ne aveva segnate troppe. 3, 6, 9. Più altri ne aveva negli scarti. E ok. Questo ce la siamo portata a casa. E andiamoci a trovare un ultimo avversario. Ultimo avversario di oggi. Siamo contro. Mech fame. Mech fame. Allora. Noi dobbiamo far uscire la testa. Abbiamo perso il lancio della moneta. E va boh. Il nostro amico fame. Iex. Decide chi inizia. Vediamo un po'. Ed è il nostro turno. Ok. Ci fa iniziare per primo. Noi non abbiamo assolutamente niente. In them hands. E ok. Lui col portamazzo di Washington. Fantastico. Partiamo di Swablu. Così. Senza saperne leggere e ne scrivere. Però abbiamo anche l'altaria. Volendo. L'energia cattura. Ci piace. Vediamo se iniziamo a catturare qualche cosa di buono. Volendo abbiamo la caramella. La roba. La tripla. Eldegos Boltund. Ok. Quindi gioca Picarom. Allora. Questo si evolve. Si si evolve. Ci prendiamo PG. Mi sarebbe piaciuto anche prendere PDAV. Ma non vorrei buttare le carte che ho. Quindi tanto vale temporeggiare. Lui deve ancora caricare. Qualsiasi cosa con Boltund. Quindi. Possiamo anche aspettare a fare i 90. E levare le energie. Che in questo matchup. Secondo me è carino da fare. Perché una volta che lui ha caricato. Il rilevare di tutte le energie. È forte. È forte. Anche perché l'unico acceleratore di energie. Di Picarom. È l'assegnazione di Boltund. E il Tapu Koko dagli scarti. Mette la stadio. E comunque vabbè. Ci può stare. Mette Boltund. E fa elettro covid. La cosa bella del nostro deck. È che abbiamo una debolezza elettro. Pari a milioni di Volt. Quindi. Questo lo evolviamo. Così non ci fa del male fisico. Possiamo fare quick su quick. Bruttissima. Ma. Ci tocca farlo. E a questo punto. Ce la possiamo giocare come? Con un altro PG. Tanto lui fa un premio alla volta. Facciamo così. Peschiamo. Ci esce doppio piccione. Sarebbe stato forte. Dacci uno swing swing. Pazzesco. Si vola. Possiamo salvare anche questo PG. Così. E ho detto. Vabbè. Lo buttiamo lì a sacrificio incredibile. Ma guarda. E ti do una tripla. E ti fa un'immersione. Sessanta danni. Gliel'ho voluto fare. Dobbiamo trovare l'alta energia cattura. Non posso sprecare le triple così. Però. Volevo dargli una botta. Ora io non so qual è la risposta. Ad altaria di Picarom. Cioè. Potrebbe attaccare di Tapu Koko. È l'unica sua risposta. Boss order. Sul PG. Sul PG8. Insomma. Siamo là. Fulmin tempesta. 2.60 nel viso. E sto piccione. Diventa arrosto. Io devo trovare sicuramente un'altra energia. Post aerea. Anfesante tavola. Vabbè. Si può mettere la tavola davanti. Ma aspetterei. Tanto. Sti gran cazzi. Se ci fa di nuovo boss K.O. Rimaniamo là. Foppesco passo. Ricerca accademica. Vediamo un po' che cosa va a ricercare il nostro amico. Mac famiglia. Mette Mew. Ok. Praticamente ci vuole fare 30. Su Mew. Cioè 30 con Mew. Su altaria tutti i turni. Forte. Scelta saggia. E io dei. Mi tocca buttar via un'altra tripla. Faccio così. Immersione rapida. Già. E potevo pescare anche dei pigiotto. Non sono abituato a pescare i pigioni. Allora. PDAV. La dovevo fare sta mossa. Scusate. Ma. Quel Mew poteva diventare. Troppo perioloso. Allora. Fulmin tempesta. E ci fa 0. Allora. Cosa possiamo fare? PDAV lo mettiamo. Airmail. Altaria energia cattura. Grazie. Sigmund. Energia cattura. Possiamo catturare. Un Mew anti GX. Questo si mette davanti. E si va a cercare. Tanto le caramelle non ne abbiamo usate. Una ce lo possiamo permettere di buttarla via. E... Ok. L'anfesante c'è ma non abbiamo la caramella. Quindi. Immersione rapida. 60 damage. Lì che fa adesso? Ritira? E attacca di Mew. Cioè di Mewtwo. Scusate. Tanto comunque. Un altro colpo lo regge. Mette Raichu. Volendo ci può paralizzare. Camilla e Caterina. Airmail. Un'ante energia cattura. Cioè la prendiamo. Non si sa mais. Immersione rapida. Oh prima o poi. Defungeranno tutti. Noi siamo sì sotto di carte. Ma abbiamo comunque le meri da fare. Quindi non rischiamo di perdere in questo senso. Ci mette il Raichu davanti. E ok. Io farei così. Se non ci esce la caramella. Ci abbiamo ancora due triple. Ci mettiamo il Tranquil qui. E dopo sarebbe figo fare il boss sul Mewtwo. Volendo. Sarebbe figo fare boss sul Mewtwo. E ancora non ho fatto PG8. Mi scordo. Maledetto piccione. Vai al nostro turno. Non ha fatto niente. Allora. Lo voglio fare? No. Non lo voglio fare. 60. A sto punto io attacco a diritto. Io attacco a diritto. Finché non gli porto in range. Quella Geju. Guarda c'era anche la caramella adesso. Allora. Attacchiamo ancora. Lui tanto si vuol portare a fare non so cosa. Sta trovando switch per paralizzarci dopo. Perché l'unica cosa che può fare è paralizzare. Ma non ci può paralizzare all'infinito. Ok. Allora. Posta Ermelosa. Ci prendiamo questo. Comunque non ci serve niente di niente. Continuiamo a fare 60. Se ci riesce a fare 3 premi così. Buono. Ma tanto lo adesso ritira. Li porta tutti a 20. E poi li leva. Switch. Ok. Me lo aspettavo. Ora lui ci può fare l'attacco di Raichu. Raichu duplice shock. Ci paralizza. Quindi non possiamo attaccare. Non possiamo ritirare. Non c'è avicoltore. O meglio l'avicoltore c'era. Ma l'ho usato. Però voglio fare così. Visto che lui dietro ha danneggiati 5 premi. Possiamo prendere un altro boss. Così da fare 2 hit. Una su Raichu. Una su Bolton. E farci 5 premi. Mary. Ok. Finirei così il turno. Lui tanto dopo cosa può fare. Doppio switch e ci riparalizza. È il male di un altro turno. Altro Raichu. Preciable. Che fa? Prende dedenne. Noi siamo rimasti con 12 carte nel mazzo. Ok. Comunque ragazzi ce la possiamo fare. È solo il tempo di fare 2 hit su quei Pokémon dietro. Riusciremo prima un po' ad attaccare di Anfesant. Me lo sento. È il tuo video. Devi far bella figura. Se no qua. Poi la gente mi infama. Allora. Questo comunque si fa. Si piglia questi 3 premi. E voliamo. Uno. Dos. Cioè avevo i piccioni nei premi. Fortissimo. Guarda lì che roba. E lui adesso ci fa. Se ci fa boss su Tranquil ma rabbio eh. Ci riparalizza. Non ci crede. Ci vuole paralizzare all'infinito. Paralizza sto cazzo. Airmail. Airmail. Bada e bellezza sto airmail. Bada e bellezza dove sei. Avicoltore. Si avicola. Si avicola. Si pesca 3. Non me ne frega nulla. Energia tripla. Anfesant. Anfesant is so pesante. Raffica discendente. Abbiamo solamente 6 carte nel mazzo. Di cui 2 triple. E un PG8 da attirare. Ce la possiamo fare. Stalliamle. Non ci dovrebbe fare neanche KO. 3, 6, 7, 7, 4. Sì. Ci fa KO anche Bolt. Perché fa 140. Con la nostra debolezza. Però un'altra energia ce l'ha. Glielo rimischiate 3. Velox. Che gli manca? Tapu Coco. Tapu Coco. Che comunque... Cioè. Lo deve caricare. Se vuole attaccare. C'è una sola energia in discarti. Chissà se fa Tapu Coco per sacrificio. O lo va a caricare di Boltund. Passa il turno. Si pesca la tripla. Signori. E se è vinto. Se è vinto. Ma lo voglio fare. Così. Con Anfesant. La voce sta andando via. Ma i Fagiani. Torneranno a volare. Raffica discendente. Ovviamente. Vabbè. Che devo fare. Leviamo Agnosa. E ci siamo portati a casa questa partita. Di cui non speravo. Io signori. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. Qua sotto. E un commento. Se siete arrivati fino a qua. Con il video. Commentate con. Fagiano. E noi ci vediamo prossimamente. Con un nuovo video. E che Godenzio sia con voi.